Salve a tutti i friends dal vostro supercore, staccoci qua ragazzi è un po' tardi, prima di fare la live ho detto devo fare questo video di approfondimento perché fa molto sorridere come tanta gente sia esperta di tutto, siamo in un mondo ragazzi soprattutto noi italiani che sappiamo tutto fai un video di calcio, segui il calcio da 30 anni, gioco a calcio da una vita, fai video di calcio dove esprimi comunque la tua opinione, non ti ergi né esperto né nient'altro, eh ma tu non capisci niente io qua io là, gente che non si sa manco chi è, io ci metto la faccia sapete chi sono, gente che c'è profili user con la foto dcb, commento faccio video di palestra, 13 kg persi in 3 mesi, fisico che dà pancia e fianchi abnormi, è diventato un fisico asciutto, c'è ancora da migliorare, asciutto, arriva il fenomeno, eh no ma comunque a me il fisico tuo non mi piace ma cioè veramente fisico brutto, tu dopo gli rispondi ma tu fai palestra, c'hai un bel fisico, fammi vedere il fisico tuo e ci mettiamo d'accordo, ci rendiamo conto, noi non faccio palestra Idem videogiochi, giochi di auto, pubblichi dei video, eloquenti, eh, i video e le live che faccio io ragazzi li vedete tutti quanti, vedete lo schifo che ci sta, arriva quello, eh no però, colpe tua, mica gli altri sbagliano io sono l'unico che c'ha le colpe, l'unico che corre in maniera decorosa nelle categorie BA, a più S dove ci stanno i professionisti tutti sono esperti di tutto, parli di UFO vi ho detto, io, cioè per la mia educazione che mi ha insegnato la mia famiglia che è un'educazione di alto livello c'è al suo interno il non parlare di cose che non so, non sparare teorie a caso, non mettermi in ambiti che non conosco quindi io non mi vedrete mai per esempio parlare di basket, di biciclette, di che cazzo ne so, di arrampicata, di politica perché sono ambiti che a me non piacciono, ho l'educazione di capire questa cosa, tu Corrado, non la capisci cioè non la capisci, non la segui, non ti interascia a perdere invece vedo che tutti sono bravi a giudicare tutto, a dare il giudizio, fulmini globulari, l'aereo allora l'aereo, abbiamo fatto il video, vi ho fatto vedere che tutto è quello che ho ripreso tranne che un'aereo fulmine globulare, la gente non sa manco che è, adesso andiamo a vedere la definizione di fulmine globulare capite? fulmine globulare allora, innanzitutto, io ho visto un po' di video su Youtube, l'unico che ho trovato fulmini globulari, nonostante su Wikipedia dice, può apparire anche in cielo sereno sono apparsi solo dove ci stanno temporali paurosi, insieme ai fulmini normali tu dimmi, un fulmine globulare è apparso in un giorno di metà agosto con 45 gradi cielo sereno, non si vedeva a mezza nuvola, manca a 100 km come si forma il fulmine globulare con quel cielo là? si possono formare, dice Wikipedia, ma nessuno l'ha mai ripreso un fulmine globulare fuori da un temporale, da un tempo brutto se veramente si creano sti fulmini globulari anche con il cielo sereno e non ci sono nuvole allora dobbiamo andare in giro con le armature che ma fa? ci ha mette l'armatura quando andiamo in giro pure a 50 gradi perché siamo tutti in pericolo di vita non è così, io ho visto dei video, fulmini globulari appaiono solo nelle tempeste e ora lo vediamo seconda cosa, comportamento dei fulmini globulari è una palla che va su, va giù, a destra, a sinistra, non si capisce si muove a caso quello che ho ripreso io, anche se la gente non l'ha capito perché poi non hanno visto il video oppure l'hanno visto senza sentire quello che dicevo io non capisco nun cazzo io il video sembra mosso semplicemente perché io muovo la telecamera perché io non è che sto fermo e riesco a stare cucifermo io muovo la telecamera l'oggetto che ho visto io era silenzioso, lento, molto luminoso due palle attaccate andava in una direzione ben definita andava pianissimo per essere un veivolo andava troppo piano e volava troppo a basso ecco perché non poteva essere un aereo perché andava troppo piano venivi in direzione dalle montagne verso Pescara come ha visto a me ha cambiato direzione se ne andate di qua verso la maiella l'oggetto era perfettamente stabile fermo e non faceva così e l'effetto della telecamera del telefono che tenevi in mano e del fatto che era molto luminoso sembra che si muove l'oggetto era perfetto faceva delle traiettorie precise camminava e girava senza minimamente cambiare andare su, andare giù ha fatto una traiettoria che ho visto l'ho visto arrivare l'ho visto girare e prendere un'altra strada e l'ho visto scomparire questo ha fatto l'oggetto il fulmine globulare se fosse stato un fulmine globulare sarebbe andato su e giù 15 volte sarebbe girato sotto e sopra no, quello è arrivato ha girato, ha fatto un po' di metri è scomparso è schizzato verso l'alto no, sopra, sotto, destra e sinistra quindi l'attinenza tra un avvistamento in pieno giorno caldo, cielo sereno oggetto visibile due palle rotonde incollate tra di loro oggetto che sembrava avere proprio una traiettoria perfetta da là come siamo andati ai fulmini globulari cioè pensa un po' tu pensa la gente che fantasia c'ha per potersi spiegare le cose se voi non credete ma non commentate ve lo dico sempre perché venite a commentare i miei video vi devo fare brutto non ho bannato in amareacchi non ho bannato gli ho resi in faccia capite? perché non sapete manco di che parlate però parlate fulmine globulare capite? qui c'è a casaccio questo è lo fulmine globulare andatelo a vedere cos'è un fulmine globulare adesso lo vediamo allora fulmine globulare un raro a volte brevissimo in particolare fenomeno luminoso dell'atmosfera si tratta di un piccolo globulo luminoso di forma pressoché sferica quindi non due punto primo fermo più frequentemente in rapida e casuale in rapida e casuale in movimento si può avvistare sia in presenza che assenza di temporali video avvistio tutti in presenza di temporali movimento a caso è molto rapido oggetto che avvistio era molto lento movimenti ponderati precisi su traiettorie ben definite vabbè questa atmosfera che ancora oggi non è ben compreso ed ecco qua di solito si muove in modo casuale seguendo veloci percorsi segmentati e rapide variazioni di quota quello che non ha fatto il mio il mio è rimasto in quota sempre allo stesso punto ha cambiato traiettoria andava piano e non faceva nessuna variazione né di quota né di direzione così drastica ed ecco questo video che ho trovato su youtube come vedete qua temporale tuoni fulmini completamente diverso dalla condizione che c'era l'altro giorno a casa mia come potete vedere ecco i fulmini globulare eccole qua guarda là una palla una piccola palla impazzita nel cielo che non si capisce la direzione che segue non ha un'entità umana cioè consenziente probabilmente sicuramente che la guida questa vedete vedete ragazzi ve lo rallento pure come potete vedere eccolo qua il fulmine globulare appara all'improvviso va su va giù cambia traiettoria ecco qua e ora ce ne sto in alto guarda qua guarda là sembra un moscerino impazzito ecco qua la forma il movimento del fulmine globulare ragazzi cioè è tutt'altro di quello che ho visto io ecco qua il fulmine globulare guarda come va va su va giù va sotto va sopra va su ma rimane dentro l'inquadratura non va su e scompare come il mio va su rimane nell'inquadratura questi sono i fulmini globulari ora vi faccio vedere quello che ho visto io ecco l'oggetto che ho visto io cioè un oggetto che volava nel cielo sereno volava tramite traiettorie precise senza andare nessun e giù il movimento che vedete su e giù sono io con la telecamera non è l'oggetto che cambia direzione sono io che vado su e giù col telefono perché non riesco a tenerlo fisso un po' c'avevo il fiatone perché già avevo camminato un po' ero scioccato di quello che ho visto due palle come vedete e schizza verso l'alto alla fine del video io comunque abbasso il telefono ma l'oggetto si vede per una frazione di secondo la traiettoria verso l'alto non è niente cioè non può essere un fulmine globulare perché quella forma non ha quel movimento pazzoide che è un fulmine globulare assolutamente in più in una giornata di estate dove c'era tutto tutto il cielo sereno quindi cari amici miei come potete vedere sono due oggetti ben diversi uno fulmine globulare palla impazzita che appare in concomitanza nel 99% dei casi di temporale e tempo brutto fulmine globulare che non ha una direzione ben precisa va su o giù si muove in maniera assolutamente incoerente con qualsiasi cosa oggetto che ho visto io oggetto luminoso con doppia palla illuminata che volava in una direzione ben precisa cambiato l'angolo di direzione all'improvviso e volava perfetto nel cielo senza andare nessun né giù né a destra né a sinistra i movimenti i movimenti che vedete sono le mie mani che un po' tremavano ero stanco stavo così riprendevi il cielo non stavo stabile ecco perché ho cercato di stabilizzare l'immagine e non l'ho visto più quindi stiamo parlando di due cose ben diverse l'oggetto che ho visto era lentissimo andava proprio piano ecco perché sono riuscito a vederlo arrivare girare riprenderlo oppure alcuni secondi mentre un fulmine globulare come avete visto si capisce s'ampazzita quindi sono due cose diverse lo so che voi che non credete a quello non credete a quell'altro eh no questo è stato di fulmine roba finito purtroppo non è così ragazzi perché se io non credo alla chiesa non sono cristiano non vado alla messa a dire la domenica eh tutte cazzate avete rotto i coglioni non ci vado non ci credete amen ma queste sono prove che vi fanno capire come andate a vedere gli altri fulmini globulari che trovate su youtube non ce ne sta uno che non fa movimenti pazzoidi in un tempo molto molto brutto il contrario di quello che ho visto io quindi facile dare spiegazioni a caso e dire cose a caso giusto per darsi una spiegazione ma non è così quindi potete parlare quello che vi pare ragazzi vi ho dimostrato ancora una volta come stiamo parlando di due cose diverse ciao voglio oh 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 Grazie a tutti